Complessivamente sono stati sequestrati più di 30.000 pezzi, tra cui 5.000 confezioni medicinali e oltre 25.000 tra aghi, siringhe, cannule e stetoscopi. Non solo, nascoste in diversi luoghi, sono state trovate mazzette di banconote da 50, 100 e 200 euro per un totale di 70.000 euro, sequestrate perché ritenute correlate all'attività illegale. L'unità anti-abusivismo, coordinata dal comandante Antonio Barbato, in seguito a un controllo in un'erboristeria, ha verificato che il quarantenne gestore di origine cinese vendeva senza abilitazione sia farmaci da banco sia quelli acquistabili solo con ricetta medica. I medicinali presentavano inoltre etichettature non conformi alla normativa o non avevano l'indicazione di scadenza. Lo stesso titolare è stato denunciato per esercizio abusivo dell'attività di farmacista e per avere venduto farmaci privi dell'etichettatura di legge. Anche la scorsa settimana erano stati sequestrati farmaci venduti illegalmente in un'erboristeria di via Leardi, nello stesso quartiere dove sono stati sequestrati 560 medicinali che non avevano l'etichettatura conforme alla normativa o non riportavano la data di scadenza. Ed è di qualche giorno prima la scoperta di un'attività illecita in via Scarlatti dove, oltre al sequestro di 138 confezioni di medicinali venduti illegalmente, sono stati sequestrati anche numerosi articoli di profumeria e cosmetici messi in vendita senza le necessarie caratteristiche previste dalla legge. Gli interventi sono realizzati a tutela della salute dei cittadini e in difesa di tutti i commercianti onesti, indipendentemente dalla nazionalità, hanno fatto sapere le autorità competenti.